Eh, grazie. Eh, guardate che ho riportato. Io non attengo un po' di ritardo. È una cosa che lei mi ha lasciato la prima settimana, la settimana poco più di nata di cinque anni fa. Eh beh, non è stupendo. La seguisco al giro, al giro, al giro, al giro, al giro. Ma sarà ricordato.